Su Italia 1 Sincronizziamo gli ruologi Parte una crociera speciale Dove andate, scusa? Amicizie Divertimento Ogni angolo deve sussurrare Isperazione E amore Questa cosa che sento qua dentro, io non credo di averla mai provata No Io ti amo Con Nicolas Vaporidis Lodovica Comello Nicolas Zervini Erika Delbianco Gennaro Cassini Tipi da crociera Da lunedì 21 novembre alle 18.20